Ma buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi amici. Vi siete mancati, mi siete mancati tanto in questa estate bella, calda, ovviamente dappertutto, ricca di tante belle esperienze, di tante emozioni, di tante gioie, ricca anche di questo caldo che ha distrutto completamente le mie abilità cognitive e qualsiasi altra abilità io avessi, se ne ho mai avuta. E ci siamo lasciati che era piena estate, ci ritroviamo che è pieno autunno, perché oggi finalmente, come tutti abbiamo sperato in questi giorni, qui a Lecco è arrivata una bella pioggia intensa, con qualche temporale, che ha rinfrescato e che mi ha permesso di ritornare in ufficio con una voglia diversa, perché se fossi tornata con i 40 gradi che c'erano la settimana scorsa e senza il condizionatore, non mi avreste visto in queste condizioni. Ma sono un po' emozionata, perché è tanto che non registro e non ero sicura di riuscire, insomma, ho un po' quel rimescolamento allo stomaco, come quando si facevano gli esami a scuola, sono le interrogazioni. Però, insomma, siamo qui in amicizia con tutto quello che vi vorrò raccontare, condividere la mia estate, e quindi ho pensato di ripartire proprio da questo. Ci sono tante cose, tanti video nuovi che vorrei fare, ma volevo un po' raccontarvi, proprio una bella chiacchierata. E quindi sarà il meglio dell'estate, non più il meglio di luglio o di agosto, ma il meglio dell'estate. Mi scuso con tutti gli amici e le amiche che hanno dei canali YouTube, io con questo caldo non sono davvero riuscita a passare a trovarli, sia perché mi sono scritta agli appunti e delle cose che devo dirvi, sia perché, appunto, non riuscivo fisicamente a guardare nessun video. Ne guardavo uno o due al giorno, ma poi con le cuffie mi sentivo veramente male, oltre che essere isterica, è stato veramente per me molto, molto, molto difficoltoso. Sia perché la menopausa ha dato il meglio di sé in questo periodo, e poi probabilmente sono arrivata che ero anche molto stanca, quindi ho approfittato del tempo dell'estate anche per cercare di riposarmi, di sistemare qualcosina in casa. Abbiamo ancora delle cose da sistemare nella camera hobby, che qui è un delirio, ma pian piano faremo. Insomma, il tempo è quello che non si può fare tutto. Ci siamo riposati, abbiamo goduto della nostra famiglia, dei nostri amici, ci siamo anche annoiati che male non fa, male non fa. Ma vediamo, partiamo subito con le cose belle che ho visto, che ho ascoltato. Allora, se siete più o meno della mia età, sicuramente Eugenio Finardi vi dirà molto per le emozioni che ci ha regalato con le sue canzoni, per il suo modo di cantare così profondo, così poetico, così a volte anche struggente. E Paolo mi ha regalato per il mio compleanno un concerto dal vivo di Eugenio Finardi, che è stato a Como a metà luglio, prima di andare con i ragazzi in campeggio. E devo dire che il ritornare così a godere della musica dal vivo, delle persone coinvolte insieme a te, del cantare a squarciagola, dell'ascoltare, del nutrirsi veramente di quello che la musica ci può dare, è stato veramente bellissimo. Era indeciso se regalarmi Fiorella Mannoia, che peraltro amo ed è una delle mie cantanti preferite, ma purtroppo era il giorno in cui sarei partita per il campeggio e francamente non volevo mancare proprio il primo giorno. E quindi niente, ci siamo così orientati su Eugenio Finardi e vi devo dire che ho preso anche appunti con la locandina, aspettate un attimo. E questo concerto che si chiama In Eufonia Suite è stato davvero una ricchezza, una ricchezza per l'anima, per il cuore. Mi ha fatto ritornare adolescente, giovane, quando con queste canzoni sognavo, immaginavo il mio amore. E comunque non solo, perché i testi di Eugenio Finardi trattano anche di temi ben più seri, non che l'amore non sia serio, ma è davvero stato un piacere immenso riascoltarlo, ma riascoltarlo con la mia maturità da 53enne, dove alcune cose le comprendi meglio, dove le hai già masticate, dove su quei terreni ci sei già passato. Ed è stato davvero un grandissimo regalo, bellissimo. Quindi se vi capita e se vi piace comunque un tipo di musica di questo genere, io ve lo consiglio, perché è stato veramente molto 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 bello. E questo, diciamo, ha introdotto un po' le cose belle che mi sono successe nel mese di luglio. Poi, che dirvi? Sono andata in campeggio con i ragazzi, con la mia amica Monica e la Mariuccia, che è sua mamma, ottantenne, ma ragazzi, di uno sprint, di una forza, di... io alcune volte, anche con Achille, Achille perdonami, so che non guarderai mai questo video, ma Achille era il nostro cuoco chef che faceva anche da manutentore, quindi ci aggiustava i manici delle pentole, sistemava il tavolo che traballava, oppure il frigorifero. Ecco, ci vuole sempre una figura in un'equip, in un team di cuochi quando si va a fare queste esperienze, di una persona che sa un po' mettere le mani dappertutto. E Achille è proprio così, è una persona spettacolare. E comunque, noi eravamo in quattro, ci siamo divertiti, è stato veramente bello, stare con i ragazzi di quell'età lì è sempre bello, anche se fanno un sacco di stupidate. E qui mi fermo, perché, vabbè, non devo entrare nel merito di questa cosa, però è sempre un momento molto ricco, molto ricco, di fatica, quella sicuramente, la fatica fisica c'è, perché, comunque, sia io che Monica abbiamo preso le fere dal lavoro, ma non per fare delle fere, ma per dedicarci, appunto, alla cucina. E con... cucinavamo per un totale di 53 persone, comunque, era un numero abbastanza considerevole, almeno per noi, o comunque per come sono abituata io. È stata, però, appunto, un'esperienza molto ricca. Tra l'altro, ho riscoperto la Val Vigezzo, che già conoscevo, dei borghi davvero bellissimi, il borgo, la città, il paesino di Malesco, noi eravamo a Zornasco, che è una piccola frazione, curati nei minimi particolari, molto puliti, molto belli, con un sacco di affreschi, se vi capita, e se conoscete Malesco, c'è proprio tutto un percorso, con dei personaggi cartonati, che vi aiutano a scoprire la città, la zona della Val Vigezzo, e Malesco, è appunto la patria degli spazzacamini, e ci sono davvero un sacco di bei paesi, bei borghi da visitare, e sicuramente ritornerò, perché è una zona abbastanza vicina a Lecco, in due ore di macchina si è in quelle zone, ed è una zona molto verde, molto bella, con delle belle passeggiate, delle belle montagne, un'aria fresca, è stata veramente un'esperienza, un'esperienza bellissima, veramente molto coinvolgente, che, come dico sempre, queste esperienze qui, regalano tantissimo a chi fa questa tipologia di volontariato, perché la freschezza dei ragazzi, anche la stupidità, alcune volte ingenua, delle loro uscite, o comunque il fatto che, quando magari non stanno bene, vengano a chiederti la limonata per digerire, oppure, così si affidano un po' a chi è lì di adulto, oltre agli educatori, e ai frati che c'erano, è stata veramente una bellissima esperienza, se avete l'occasione, anche in questo caso, io ve l'ho sempre detto, se vi piace fare questo tipo di volontariato, provatelo, perché è un'esperienza che regala davvero, davvero tanto, e ci permette comunque, di aiutare dove è possibile, e anche questa esperienza, devo dire, è stata molto, molto bella. Poi, sono arrivate le mie vacanze, io sono ritornata dal campeggio, ho lavorato una settimana, era l'ultima settimana, in ufficio, ho lavorato una settimana, poi sono rimasta a casa, comunque in ferie, una settimana, ma c'era già caldo, quindi più di tanto non riuscivo a fare, mi sono dedicata alla maglia, mi sono dedicata un po' all'uncinetto, ma più che altro alla maglia, ma poi, di tutte queste cose, avremo dei video dedicati, in modo che, chi non è interessato, poi non, appunto, non li guarda, e, in quei giorni, ma soprattutto, anche in quest'ultima settimana, e nelle vacanze, ho capito che, il mio, modo di essere sui social, andava un po' cambiato, io sono una che va, a cento all'ora, su queste cose, quindi, se mi piace, una tipologia di video, li guardo, ne guardo anche tanti, ma poi, lascio indietro, tante altre cose, e, anche il leggere, di polemiche, inutili, di commenti, così poco intelligenti, di quei leoni da tastiera, che probabilmente, per il troppo caldo, non sapevano cosa fare, mi ha veramente indispettito, non entrerò nel particolare, perché non c'è nessun particolare, ce ne sono tanti, però, insomma, non vi piace un video, non guardatelo, non vi piace un post, non scrivi, cioè, non fa per voi, ma cosa perdete tempo, siete voi che perdete tempo, io, dalla mia, ho deciso, che, dovessi, a me non è mai capitato, dovessi avere, un commento, antipatico, maleducato, irrispettoso, blocco subito, il personaggio, non ho tempo, da buttare via, in queste cose, io ho una giornata piena, ho una vita, con tante relazioni, al di fuori, di quello che è, il social, ho tante cose da fare, mi piace fare tante cose, non ho tempo, da perdere, per rispondere, a dei commenti, inutili, scritti soltanto, per far rimanere male, una persona, che tra l'altro, non si conosce, mi piace la discussione, la discussione, però, face to face, faccia faccia, se qualcuno mi dice, che ho fatto qualcosa, di sbagliato, che ho fatto qualcosa, che non era, propriamente corretto, spero di non averlo mai fatto, però, una discussione vera, fisica, dove ci si può, mettere sullo stesso piano, e cercare di capire, quali sono, le idee, dell'altra persona, che hanno portato a questa cosa, e il perché, tu mi dici questo commento, i commenti, scritti così, tanto per scrivere, per me, non hanno nessun significato, e non darò, assolutamente, nessun significato, quindi, anche questa cosa qua, già il caldo, già la menopausa, mi ha innervosito, e quindi, sicuramente, cercherò di avere, un approccio più moderato, più bilanciato, con i social, questo non vuol dire, che io non farò più video, cioè, questa cosa no, però, prenderò il mio tempo, per fare le cose, che ci sono al di fuori, della vita, così, della vita social, della vita virtuale, dedicherò il tempo giusto, che forse prima, non era proprio così tanto giusto, mi sta cadendo la maglietta, va beh, siamo così, tra amici, mi piace fare, questa piccola introduzione, che poi non è neanche un'introduzione, perché è a metà del video, però, ecco, alcuni atteggiamenti, mi hanno proprio dato fastidio, mi hanno anche stufato, insomma, cioè, va bene, ma torniamo a noi, e quindi mi sono, dicevo, allontanata un attimino, sia perché ero stanca, sia perché veramente con il caldo, non riuscivo a tenere sulle cuffie, mi sudavano persino le sopracciglia, ve lo giuro, ero con il rotolo dello scottex, da parte alla poltrona, e mi tamponavo, quando avevo questi attacchi, oltre al caldo che già c'era, attacchi così improvvisi, di vampate quotidiane, e tutto questo quindi mi ha fatto lavorare molto di più a maglia, molto di più all'uncinetto, ho letto tanti libri, ho riletto dei libri che avevo intenzione di rileggere, e che poi vi racconterò, e quindi è stata così, un'estate molto di recupero, per recuperare le forze, per ricominciare un po' settembre, per me settembre è un po' l'inizio dell'anno, di tutte le cose, tutte ricominciano le attività, ricomincia la scuola, ricomincia il lavoro, ricomincia un po' la routine quotidiana, fatta di fatiche, di uscite, di organizzazione quotidiana, e quindi mi sono proprio presa questo tempo dell'estate, per rimettermi un po' in sesto, soprattutto a livello psicologico, perché sulla forma non ci sono ancora riuscita, ma ci sto lavorando, ci sto lavorando, va bene, altre due cose, che vi volevo consigliare da vedere, sono due film, uno l'ho visto quest'estate, me l'ero persa quando era uscito, perché ricordo che al mio cinema parrocchiale, e anche nell'altro cinema qui a Lecco, era uscito, ma non ero riuscita ad andare a vederlo, avevo però letto i libri, di questa fantomatica signora Harris, o Harris, se voi non l'avete mai letti, vi lascio comunque tutte le info, di quello che posso, nell'info box, i libri sono veramente spettacolari, di questa donna di servizio, che fa fatica a tirare la fine del mese, e che tutt'ad un tratto, scopre nella casa di una signora, a cui va a fare le pulizie, un bellissimo vestito di Dior, di cui lei si innamora, ma non vi racconterò tanto, la trama di questo film, che si intitola, aspettate che vado a prendere, la signora Harris va a Parigi, vi racconterò le sensazioni, che mi ha regalato, la storia, è una storia davvero molto delicata, quasi troppo ingenua, di questa attrice, bravissima, lei è Leslie Manville, a me piace tantissimo, anche in altri film, se non sbaglio, l'attrice che ha fatto, la cuoca del presidente, bellissimo film, e c'è questa ingenuità del cuore, questa quasi essere bambina, dal gusto del bello, per questo vestito di Dior, ma poi si intrecceranno, dei personaggi particolari, proprio alla casa Dior, e con cui lei poi farà amicizia, e che comprenderanno bene, qual è il valore del cuore, di questa donna, è un film bellissimo, molto leggero, molto delicato, che ci insegna il valore, di avere un cuore bello, di avere un cuore pulito, di avere un cuore ingenuo, di amare, nonostante le difficoltà, che la vita ci mette davanti, le cose belle, le cose che ci fanno star bene, senza far del male a nessuno, è un film che vi consiglio, ma vi consiglio anche i libri, se non ricordo male, dei libri ce ne sono due, due di sicuro, perché io li ho letti, non ricordo se c'è anche il terzo, sono dei libri, molto delicati, ma ne avevo già parlato, non ricordo, se sul blog, o qui su youtube, davvero dei libri, che vale la pena leggere, perché ci fanno riscoprire, la bellezza dell'animo umano, quando l'animo umano è bello, e quando l'animo umano non vuole far del male, ma anzi si accontenta del poco, per poter gioire della vita, per essere felice, è davvero bellissimo, sia il film che i libri, e di questo, poi vi lascerò ovviamente i link, un film invece, anche lì, molto bello, che mi è piaciuto, che ho visto proprio l'altra sera, sulle, sulle reti, come si chiamava, Paramount Channel, e adesso è diventato 27, dovrebbe essere così comunque, canale 27, del digitale terrestre, e, e anche qua, prova a prendermi, un film, se riesco, poi vi metto le locandine, quando racconto i film, un film che apparentemente sembra divertente, ma che ha un significato molto profondo, il significato che, il dolore che un ragazzino prova, quando i genitori si separano, e quando perde tutto, tutto intendo la casa, intendo il benessere sociale, il benessere economico, però perde soprattutto, l'affetto, il legame con la mamma e con il papà, non ha più una famiglia unita, questo ragazzino, che è interpretato da, Leonardo Di Caprio, che, a me più di tanto come attore, non piace, ma in questo film, ha davvero superato se stesso, secondo me, all'inizio appunto, ha qualche, ha un modo, gogliardico, di affrontare la vita, è un ragazzino di 17 anni, di una famiglia benestante, poi pian piano si accorge, che comunque, tra i suoi genitori, le cose non vanno più bene, il papà ha, una crisi sul lavoro, è, diciamo, preso di mira, da dei controlli finanziari, e, pian piano, pian piano perde tutto, e, soprattutto perde appunto, il suo, il suo matrimonio, allora, in questo film, che tra l'altro, è tratto da, una storia, vera, e, sembra davvero impossibile, perché, eh, ci sono veramente, degli episodi, molto, particolari, ehm, appunto, alcuni abbastanza goliardici, se pensiamo che vengono fatti, da un ragazzino di 17 anni, ma, soprattutto, da un ragazzino, che ha una mente, ed un'intelligenza, fuori dal normale, e che sfrutta, per, eh, per arrivare dove, dove arriva, per imbrogliare, insomma, cioè, tutta la sua vita, in quegli anni, in quell'anno, l'anno e mezzo, quei due anni, in cui riesce, a fare tutte queste cose, è, tutta un imbroglio, è tutta una finzione, e tutte queste cose, lui le fa, eh, per cercare, di riacquistare, non tanto l'affetto del papà, perché il papà, comunque, lo segue sempre, anche se è un personaggio, un po' particolare, ma, eh, per far rimettere insieme, eh, i suoi genitori, e, mh, questo alla fine, non, non succederà, ve lo consiglio, è un film davvero molto bello, con, eh, un finale, se vuoi, anche inaspettato, e bello, nonostante quello che succede, al protagonista, che ha, eh, un pensiero molto, molto profondo, insomma, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere, in maniera particolare, e, ebbene, e poi, che cosa vi voglio raccontare? Vi voglio raccontare che, eh, per le mie vacanze, mh, siamo andati con il solito gruppo di famiglie, ormai, quest'anno è il nono anno, l'anno prossimo festeggeremo, i dieci anni di, eh, vacanza comunitaria, siamo andati a Morzin, Morzin è una località, in Alta Savoia, in Francia, abbastanza famosa, sia dal punto di vista turistico, soprattutto sciistico, e anche perché ci passa, eh, il giro, di Francia, e quindi ci sono davvero, molte, eh, sculture di legno, che rappresentano le biciclette, ci sono tantissimi percorsi, dedicati alle biciclette, è una zona meravigliosa, meravigliosa, stupenda, con dei luoghi, eh, adatti, eh, a famiglie, a gruppi, e, eh, quello che mi ha lasciato così, molto, mh, stupita, non troppo affollata, non troppo affollata, eh, con delle belle passeggiate, fattibili per tutti, come la sottoscritta, eravamo in questo chalet stupendo, eh, che ci ha ospitato tutti, 26, 29, dipendeva dai giorni, bello, 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 zone stupende, tanto verde, un bellissimo lago, mh, il centro di Morzin è davvero molto, molto carino, con dei bei negozetti, e proprio in questi negozetti, io mi sono comprata, un piccolo regalo, perché, il 18 di agosto, è la festa, di Sant'Elena, è il mio onomastico, e io, con tutti i sacri, crismi, ho festeggiato, eh, per me il giorno dell'onomastico, è un giorno importante, non si ricorda mai nessuno, che è il mio onomastico, ma fa niente, e, e quindi, mi sono fatta, dei piccoli regalini, mh, devo dire, che in quest'estate, non ho acquistato, praticamente, nulla, sono stata, veramente, molto brava, sia perché, a livello di, eh, skin care, e quant'altro, eh, ho fatto veramente, ben poco, perché il caldo, mi ha completamente bloccato, anche perché, ogni, che ne so, mezz'ora, un'ora, e mi risciacquavo il viso, quindi, anche se, cioè, non avevo proprio voglia, di rimettermi la crema, quindi facevo la mia skin care, basica, basica, alla mattina, e alla sera, e poi, non mi truccavo, non mi sono mai truccata, il giorno, che mi sono truccata, per la prima volta, questo è stato oggi, che sono ritornata in ufficio, eh, perché, vabbè, volevo essere presentabile, ma per il resto, tutte queste cose, le ho proprio lasciate un po' da parte, perché, non, non ce la facevo, non ce la facevo davvero, anzi, mettevo proprio una crema, molto, rigenerante, adesso non mi viene neanche la parola, di quelle che avevo già, già aperto, sto cercando di finire, comunque, tutti i prodotti, che ho aperto questa primavera, in modo che, il PAO, appunto, non vada oltre, e voglio cercare di finirli, per poi cominciare, così, a raccontarvi, anche i nuovi prodotti, che, inizierò ad utilizzare, sono stata davvero, molto basica, in tutto, ma secondo me, ogni tanto, questa cosa, ci, ci vuole, anche per i profumi, ne ho utilizzati alcuni, soprattutto, acque profumate, perché sono fresche, perché, hanno, comunque, una composizione, molto più leggera, e vi dirò, che in alcuni giorni, quando il caldo, era veramente, così oppressivo, non riuscivo neanche a metterle, perché la pelle, mi bruciava, anche se, le acque profumate, ovviamente, sono molto, più leggere, dei profumi, ma, mi dava veramente, fastidio sulla pelle, è stata, è stata veramente, un'estate devastante, da quel punto di vista, ma che cosa, mi sono regalata, allora, ho trovato, un negozietto, molto carino, una merceria, che avevo, che avevo già addocchiato, prima di partire, perché avevo trovato, su internet, e mi sono comprata, una, bella pochette, di, questa marca, che io, non ho mai, neanche sentito, però, era molto carina, questo negozio, aveva tutto di questa marca, vediamo se la trovo, l'avevo vista, ma non mi ricordo più, va bene, fa niente, non la trovo neanche, ma, va bene, così, e comunque, questa pochettina, dove io, ho, ci ho messo, il mio lavoretto, a maglia, che poi vi farò vedere, in un altro video, e insieme alla pochettina, ho comprato, anche la, la pochette più piccolina, per metterci, marca punti, di tale, e tutto quello, che mi serve, per tagliare, e cucine, per quando faccio la maglia, e non solo, poi, ho trovato, in un altro negozetto, era pieno, di scatole di latte, veramente, veramente carini, allora, ho comprato questa, che la vorrei, però, regalare, per Natale, ad una persona, però, mi piaceva davvero, talmente tanto, che, l'ho comprata, e, per me, invece, questa, ma ce ne erano, veramente, di tutti i tipi, molto, molto, molto carina, per metterci, le mie, tisane, all'interno, come vedete, a tutti gli scomparti, e questa, farà bella mostra, nella mia, disordinata, cucina, poi, che facevo, ma li lasciavo lì, ragazzi, no, io, quest'anno, ho voglia, di ricominciare, a cucire, a ricamare, non ce ne sono, di storie, la creatività, non si riesce a fermare, e io, mi mancavano, delle stoffe, ma voi, pensate che, mi mancassero, delle stoffe, però, queste, in queste tonalità, erano così belle, che io, non so, ancora, cosa ci farò, però, sono davvero, davvero, stupende, poi, il rosso, è il mio colore preferito, e quindi, sicuramente, ci creeremo, di qualche cosa, ebbene, che altro raccontarvi, vi ho raccontato, delle mie vacanze, vi dicevo, che ho voglia, di ricominciare, a cucire, a ricamare, la maglia e l'uncinetto, lo stiamo già facendo, parleremo di tante cose, non solo di creatività, parleremo, parleremo di quello, che abbiamo parlato, fino adesso, insomma, condividerò con voi, le mie passioni, le mie scoperte, i miei pensieri, i miei libri, quello che mi piace, è quello che farò, e, tada tada, queste ve li devo far vedere, perché io ho, due cugini, in particolare, a cui, voglio, più bene, non lo so, però, al quale io sono davvero, molto molto affezionata, io sono figlia unica, lo sapete già, e, questi due miei cugini, per me, sono come dei fratelli, davvero, e, uno di questi, miei due cugini, che è un sacerdote, è andato in Giappone, a fare una vacanza, e io cosa gli ho fatto portare, cioè, pensate, un sacerdote, in Giappone, che entra, in una libreria, e mi compra, tutti i libri di ricamo, guardate qua, che meraviglia, guardate quanti libri, vi faccio vedere, qualcosina veloce, ma tanto per farvi vedere, la bellezza, la bellezza di questi libri, sono tutti in giapponese, ma fa niente, cioè, ci sono le spiegazioni, visive, adesso vi faccio vedere, allora, vi faccio vedere, perché poi ci sono anche i tutorial, guardate che meraviglia di cose stupende, ci sono su questi libri, e quindi io vorrei ricominciare a ricamare, guardate che belle, che finezza, questi sono anche molto piccolini, quindi secondo me sono anche veloci da fare, vabbè, io il ricamo, lo so fare, il ricamo tradizionale, ho fatto anche una scuola, e vorrei riprendere un po' in mano, tutte queste cose, così, questo tra l'altro, adesso, questo è molto bello, perché oltre ad essere scritto in giapponese, però ha i tutorial, vedete, e quindi, queste copertine, così, non si capisce nulla, questo è l'altro, che vi ho fatto vedere, questo è uno un po' particolare, con tutti gli animali, adesso vi faccio vedere uno scoiattolo, però vedete, sono fatti molto molto bene, perché spiegano, fotograficamente, con questo tutorial, come si fa, c'è uno scoiattolo, insomma, guardate, cioè scusate, guardate la finezza di questi copri agenda, guardate che meraviglia, vedete, ce n'era uno che aveva uno scoiattolo, che sembrava persino in vero, talmente era bello, oppure la finezza di questa corona di margherite, guardate che belle, e niente, vorrei dedicarmi un po', veramente, a queste passioni, metterci del tempo, la copertina di questo, poi vogliamo parlarne, sono spettacolari, e come vedete, loro lo fanno spessissimo, ci mettono proprio il tutorial fotografico, io non è la prima volta che compro, libri creativi giapponesi, da anni li compro, mi piacciono, guardate che bella la copertina, e poi in ultimo questo, che è praticamente un libro di scuola di ricamo, dove c'è tutto, ci sono i ricami tradizionali, c'è il punto croce, i vari modi per lavorare, a punto croce perfetto, anche se io non lo faccio più da anni, il punto croce perfetto, non il punto croce, ci sono tutti gli sfilati, vabbè insomma ragazzi, avremo modo di farci compagnia, con tutte queste belle cose, concludo dicendo anche, che in questa estate, ho imparato a, dire i miei sì, e dire i miei no, cosa vuol dire questa frase, ho imparato a non raccontentarmi più, a non cercare di far piacere, a qualcun altro, solo per fargli piacere, ho imparato che, se dico, o se scelgo qualcosa, lo faccio, perché in primis, piace a me, e a me, da, qualcosa, una cosa banale, andavo a fare le unghie, in un posto, in cui, non ero completamente soddisfatta, ma, mi dispiaceva, non andarci più, perché, comunque, la persona che, che faceva questo lavoro, è una persona, simpatica, giovane, però, alla fine, insomma, a me non piacevano, e, ho cambiato, come ho cambiato parrucchiere, senza nulla togliere, non avevo nulla, contro la parrucchiera di prima, sono anche amica, ma non mi piaceva, come mi faceva i capelli, cioè, ho imparato a non accontentarmi, se una cosa non mi piace, devo avere il coraggio, cose di questo tipo, si intende, devo avere il coraggio, di dire, no, questa cosa non mi piace, non lo faccio più, perché, poi, magari, l'altra persona, ci rimane male, così, cambio, cioè, ecco, non so se sono stata chiara, ma, ho avuto anche questi pensieri, in questa estate, molto calda, finalmente, il caldo è finito, come finisce qui, il mio video di chiacchiere, pure, dove ho condiviso, la mia estate bella, intensa, e, che mi ha fatto riflettere molto, vi do appuntamento, ad un prossimo video, ci terremo compagnia, per tutto questo inverno, che spero sia freddo, che spero sia piovoso, e che mi faccia stare vicino, alla mia poltrona, dove posso leggere, dove posso guardare i video, dove posso ricamare, dove posso, dove devo anche andare a lavorare, e fare tutte le faccende di casa, ma queste sono cose, di contorno, sono cose di contorno, e niente, ci vediamo prestissimo, spero di non avervi annoiato, spero, tornerò pian pianino, non penso di riuscire a recuperare, tutti i video, che i tanti amici hanno fatto, e che io non sono riuscita, a guardare, perché, ne escono tantissimi, tutti i giorni, prometto di essere, un po' più presente, sicuramente, spero di trovarvi ancora qui, dopo aver fatto, tutta la mia pantomina, all'inizio, vi abbraccio, vi auguro, un buon inizio settimana, mi raccomando, per chi, ha ripreso il lavoro, in questi giorni, con calma, con calma, non facciamo troppo, che poi, tanto, quanto meno, ce lo riconoscono, in pochi, fate il vostro dovere, e nulla più, ma, trovate il tempo, per divertirvi, per ascoltare musica, per leggere, per fare qualsiasi cosa, che vi faccia star bene, io vi abbraccio, vi saluto, e a presto, ciao! Ciao!